Un campo di alta pressione mantiene i suoi massimi al suolo sulla penisola iberica e sul vicino Atlantico. Alcune depressioni in quota si muovono da nord-ovest verso sud-est sul bordo orientale, favorendo un modesto aumento della nuvolosità sui settori tirrenici. In Toscana, lunedì 19 febbraio molto nuvoloso, coperto con decise schiarite già in mattinata sulle zone settentrionali, in estensione al resto della regione nel pomeriggio. Venti deboli variabili, temporaneamente moderati da nord-ovest sulla costa settentrionale. Mari generalmente poco mossi sotto costa, localmente mossi a nord di Capraia. Temperature minime in aumento, massime in calo. Sul territorio provinciale da coperto fino a poco nuvoloso, sereno, localmente velato. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 7, massima 15 gradi. A Castelnuovo-Garfagnane, zone montane, minima 5, massima 13. A Viareggio e sul litorale, minima 8, massima 15 gradi. Martedì poco nuvoloso, ma non si escludono locali brevi precipitazioni.